Ciao a tutti amici benvenuti su un patrino 2 siamo qui oggi siamo qui oggi a Cuba dopo la nostra avventura in Florida a New York perché oggi dobbiamo fare un paio di cose dobbiamo distruggere il palazzo degli Ameida ora stanno prendendo l'ultimo racket dobbiamo uccidere quest'uomo qua un uomo della CIA dobbiamo una pinana vanga e intanto adesso finché aspettiamo uccidiamo dei poliziotti facciamo un po' di casino facciamo un po' di bordello stanno accorgendo alcuni mafiosi è giusto a morire cioè io c'ho chi è questo? ah è un... vabbè proprio io eh vabbè è lassù copertura no 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 muoio ok torniamo un attimo in casa 1 2 3 aiuto che casino guarda cosa ci costringe a fare c'è sta K47 modificato che c'è di una potenza è di un... fantastica attenzione il palazzo degli Ameida è sbuoccato beh io direi che sia il momento di attaccarmi tanto ormai va bene possiamo sfruttare anche il doppio degli esplosivi e controllo tutte le zone crimine qualcosa di fantastico ed ora ormai penso che il nostro potere si è consolidato tantissimo che cazzo mi fischiate chi è? la polizia è qui bomba vabbè ho sfondato un'auto più come una bomba che è spod... guarda chiamate bene va bene resta con me ok vedi dire resta con me ok passate dei deficienti non so per quanto ancora riuscirò a reggere ancora uno va bene stiamo vicini va bene un'ultimo desiderio non costringermi a fare ancora no 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 fermo non pigliare la roba e vabbè ho capito ma manco due passi posso far vangu prendi questo mettila giù sto sanguinando non riesci a respirare non deve andare e questo altro è morto la spalla ricorda queste sono persone innocenti minchia se queste sono innocenti un'ultima possibilità bello indietro puoi farci togliamo la corrente posso far saltare questa porta capo ok tieni d'occhio le luci e ora dovremmo essere al sicuro un'altra porta da niente ben fatta per ora e se sei il tipo voglio che si apra ci penso io a quella cassaforte buttiamoci un'altra giro va bene a questa cassaforte faccio saltare tutto manca un attimo solo un istante sto perdendo sangue non costringermi a ucciderti vuoi ancora fermare tutto questo se lo vuoi si fammi pegliare sti soldi che so 4.000 donne lui butta 4.000 donne ma come ma non hanno capito che allora io prenderei questa bellissima auto non rubata e me ne andrei a casa tutti quanti tutti quanti spariti per sempre è ora di regolare la questione ma tanto non ci riuscirò pochi impatti perfetto abbiamo rubato anche la banca è stato semplice ma perché più che altro la zona di cuba da esplorare è molto limitata ed è meglio anche così sinceramente niente adesso non fai più il duro eh non ce la faccio ci non manca a far no ma che panna ok pensavo che eri un mafioso scusa 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 sentite non possiamo prendere l'auto e andarci e che cazzo però un lanto innocente è inda però ottimo se ne fotte scappiamo no no la polizia no per piacere oh ma perché si fa morire sempre mi senti andrà tutto bene hai capito bomba ma porca è una brutta ferita ma vedrai che te la caverai stai calmo sarà una cosa dolorosa metti via quella cosa attenzione ma mannaccia ma mannaccia tieni duro amico tieni duro no coda scombico la mia spalla resta con me ok ma com'è cazzo è possibile metti là giù cercherò di fare in modo che sia una cosa rapida eh ma non è che devo morire sempre cazzo questo posto è un'inverma eh cioè la mente non ne scappa niente guarda 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 oh gesù è a terra credo di poterlo aiutare è una brutta ferita ma vedrai chi te la guarda guarda quanti cecchini che tenevano vita prendi questo e sono fucini di rivengo uno guarda sono quei thompson e muoio aprila dai sono come doppiette di rivengo uno che ti attacco fanno schif cioè non posso morire in queste condizioni cioè penso che che cazzo dov'è ste banal meida dov'è 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 a dove sei la tua merdosa vita finita qui bastardo del cazzo finalmente un'ultima arma sbloccata indetta SR98 un fucine da cecchino silenziato che è di una bennezza in modo indescrivibile fai saltare tutto scappo addio venti secondi restiamo uniti aiuto passate foto tutti cecchino là in alto via aiuto penso che siamo salvi penso e anche in palazzo degli almeida signori è cronato e con essi tutti gli altri quindi 50.000 dollari per un totale di 335.000 dollari signori ragazzi io penso che questo video può finire qua spero che questo video vi sia piaciuto non caso vi sia piaciuto mettete un mi piace questo sarà un ultimo video del padrino 2 e niente noi ci vediamo su un prossimo video ciao ragazzi ciao